Cari fratelli e sorelle di Romania, Mancano ormai pochi giorni al viaggio che mi porterà in mezzo a voi. Questo pensiero mi dà gioia e desidero fin d'ora rivolgere il mio saluto più cordiale a tutti voi. Vengo in Romania, paese bello e accogliente, come pellegrino e fratello, e ringrazio il Presidente e le altre autorità della nazione per avermi invitato e per la piena collaborazione. Già pregiusto la gioia di incontrare il Patriarca e il Sinodo Permanente della Chiesa Ortodossa Romena come pure i pastori e i fedeli cattolici. I vincoli di fede che ci uniscono risalgano agli Apostoli, in particolare al legame che univa Pietro e Andrea, il quale, secondo la tradizione, portò la fede nelle vostre terre. Fratelli di sangue lo furono anche nel versare il sangue per il Signore. E tra voi ci sono tanti martiri, anche in tempi recenti, come i sette vescovi greco-cattolici che avrò la gioia di proclamare beati. Ciò per cui hanno sofferto fino ad offrire la vita è un'eredità troppo preziosa per essere dimenticata, ed è un'eredità comune che ci chiama a non prendere le distanze dal fratello che la condivide. Vengo tra voi per camminare insieme. Camminiamo insieme quando impariamo a custodire le radici della famiglia, quando ci prendiamo cura dell'avenire dei figli e del fratello che ci sta accanto, quando andiamo oltre le paure e i sospetti, quando lasciamo cadere le barriere che ci separano dagli altri. So che molti stanno intensamente preparando la mia visita e vi ringrazio di cuore. A tutti voi assicuro la mia vicinanza nella preghiera ed invio la mia benedizione. E vi chiedo per favore di pregare per me. Arrivederci.